Nel settembre del 2003 l'Italia si svegliò al buio perché c'era stato un problema proprio sulla rete elettrica. Oggi questo episodio è un po' stato dimenticato, però torna ad attualità con i temi di cyber security e comunque resta centrale per la sicurezza energetica del Paese. Torna ad attualità non solo per quanto riguarda la rete elettrica, ma in realtà per tutte le infrastrutture energetiche del Paese. Lo abbiamo visto in questi giorni, quello che sta accadendo. Come abbiamo avuto modo di dire, per le aziende energetiche non è una novità essere al centro di attacchi cyber e quindi hanno dovuto nel tempo strutturare organizzazioni e metodologie di risposta adeguate. Però è evidente che il tema è molto scottante, dobbiamo non perdere di vista un'attualità complicata e dobbiamo soprattutto non perdere di vista la necessità di cooperare tra noi sul canale privato-privato e di cooperare con le istituzioni, in primo luogo con l'Agenzia di Cyber Security nazionale per cercare di rendere il sistema Paese più resiliente rispetto a questi attacchi. Secondo lei e dal suo punto di vista questo tema della sicurezza delle reti è percepito anche dalla popolazione o ancora c'è bisogno di sviluppare una sensibilità e un'attenzione verso queste tematiche? Innanzitutto deve essere sviluppata all'interno delle nostre aziende l'attenzione di tutte le persone rispetto alla Cyber Security perché oggi, ahimè, ogni singola persona che lavora all'interno di un grande operatore, quindi di una grande rete infrastrutturale potrebbe essere la porta d'accesso a un attacco a cyber. Per quanto riguarda la popolazione, anche qui queste tematiche devono trovare la giusta diffusione a tutti i livelli dalle scuole, alle università, ai contesti lavorativi più disparati perché oggi la cyber sicurezza si può affrontare solo con un grande sforzo corale, solo con una grande consapevolezza comune. Perché oggi noi abbiamo in tasca un telefonino che può essere anche una porta d'accesso a degli attacchi informatici che possono riguardare i nostri dati personali, il nostro conto è bancario, la nostra rete telefonica. A me piace fare un esempio, 30 anni fa quando io ero più o meno ragazzo il problema della sicurezza era chiudere a chiave la porta di casa oggi di porte di casa sul nostro smartphone ne abbiamo a centinaia tenerle tutte chiuse potrebbe non essere semplicissimo ecco che allora essere cyber aware significa non solo essere degli operatori, dei professionisti migliori ma significa anche essere dei cittadini più sicuri e ripeto se ne va anche della nostra sicurezza personale, delle nostre famiglie e dei nostri interessi.